Shaddo di Gugge e ben ritrovati dal vostro Anderling Cramatuno sulla seconda parte di Pokémon Xenoverse Demo 2.0 La Forza di Uno E prima i self-scienzi A meno che... Vabbè si è... no 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 Aspetta un po' ma i Pokémon io ce li ho carichi o no? No Perfetto la chiave, la chiave, la chiave, la chiave Deve essere sicuramente da qualche parte Oh qui non si può andare bene Questa è Zapdos Dunque la chiave potrebbe essere qua sopra come è ovvio che sia Non l'avevo visto perché sembrava la fiamma di Moltres va a quel paese va Ma il tetro è un po' più... un po' meno nascosto no? Eh chiave segreta Sì possiamo aprire il cancello bene Tu una mano no però eh Prima rompe le palle perché deve stare anche lei alla cerimonia Poi dopo rompe le scatole perché non può trovare la chiave ma insomma Aspetta allora facciamo con calma e che caspetrina Allora Bene dunque questa qui non so che... Oh Pikachu Boh non lo so Sembra che la statua ti stia fissando Bene Raffigura Machamp Secondo la leggenda è stato eletto per proteggere qualcosa di prezioso E' la statua dell'imponente Machamp Bene La statua vuole attaccarmi che bello Mi fa molto piacere Machamp selvatico Ma guardate quanto è bello però Lanciafiamme Più veloce Madonna Non è molto efficace mi sono accorto Ancora con lanciafiamme Perché non è tipo roccia cosa cazzo è? Peso bomba Mai vista Facciamo un po' una cosa Pokémon Ma ci penso io Andiamo con Faroull Che rompe i culi Faroull è quello che cantava insieme ai Daft Punk no? Oh Trishout Boost Boost Pure questo qua Va buono Cos'è? C'è uno strumento Puoi prenderlo sì Chiave Chiave Che bello Tutti sti quadri Cosa mi rappresenta? Sì che lo premo Ah Puoi prenderlo il pulsante? Sto qua Aspetta Sto andati disattivati Ok Zitta Aspetta C'è una sequenza Puoi premerlo sì Ma sta così attivata Puoi premerlo sì? Oh Ah Emo Ah Allora Riniziamo Finché non ce la faccio Ok Gengar Mi chiedo a cosa serva Però Intanto io ci provo Ma fortuna che ci ho cliccato Oh Il quadro è cambiato a posto Si è aperto un passaggio segreto Vuoi entrare nel passaggio? Sì Oh Wow Wow Pozione Sì Pokéball Ma a quale scopo? Ma Boh Un po' senza musica Un po' inquietante Ma Va bene Tornare indietro? Sì Vuoi entrare nel passaggio segreto? Se ti rifiuti Ok Entro Entro Zitto Zitto Ah Mega Oh Oh Ho capito Posso fare così Fino a che non ottengo La master ball Si 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 Ok Vuoi entrare nel passaggio segreto? Se ti rifiuti Non ti posso Ok Entro Ultra ball Ok Iper pozione Sì Mamma mia Bella Bella Questa cosa Mi piace molto Sto evento Molto molto carino Evento inteso come Non evento pokemon Tipo i pokemon Legendari Che altrimenti Non si possono Catturare in modo Normale E' una cosa Che si trova Nel Nel rpg maker Comunque sia Vuoi rientrare nel passaggio segreto? Sì Entro Cosa Oddio 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 I whipping angels Non ti perdonano Ti riporteranno Nel frasare Se risprenderanno Tutte dello strumento Ti chiederanno Inoltre Per sempre La loro dimora Addiviaggiatore No No Non è vero Perché? No Che sfiga Io c'è arrivato Oddio Vintage Pikachu Cos'è? Pica C'è lo gramma Pica E che cacchio Oddio ragazzi Io non ci sto capendo più niente Sto intrippato In una maniera bruttissima Mamma mia No Per ora Masterball Masterball Potrei anche tornare indietro E provare C'è Ho salvato poco fa Quindi Non ci vorrebbe tanto Arrivare Tutto quanto Il percorso Però vabbè dai È andata Così è andata Z Z Z Z Eh Ha premuto Z Ma non Perché non va? Si incrumore Cosa fa? Unaffected Ma che cazzo? La Z Per la mega pietra E dai Niente Non posso attivarla Angula is Ah ecco Ah Z Poi attacco Beldora Ditemelo prima Yeah Mega E' sempre più veloce Pikachu Mi va bene Va bene E' anche giusto Oh I danni Perfetto Può prenderlo Sì Andrò a tenere Poké Memoria Pikachu Oh Sistema Poké Memoria Ok Contenente Memoria Di un Pikachu Chissà cosa servirà Ok Questa cos'è? L'ultima cena Tipo Pokémon In stile Pokémon Dove cavolo Sono andato Vabbè Apriamo le gabbie Moltres mi sta più simpatico Quindi libero prima Moltres Ok La gabbia aperta Una E anche questa Ma che mi dice Ragazzina Qui Beh Ma che cazzo Non sei scema Oh Andiamo Oh mio dio C'è il risardo L'ologramma Ok Così Allo Lotte così A caso In tutto il gioco Andiamo con Forza Antica La cosa più Super Efficace Che posso Sare contro I Charizard Anche se L'ologramma Gli fa male Beh E tre lama Contro un Pokémon Di fuoco Insomma Charizard Se l'ologramma Un po' Coatto E' andato E' andato E' andato E' andato E' andato Sì Pochi di marriciata Oh yeah Bello come è strutturato Il posto Mi piace Ora andiamo Qua Non funziona Qua ci sono Già stato Dunque Gli ologrammi Già presi Ah La Oh Bellissimo Sembra che la Poki di marrici Charizard Abbia raggiare Il potere di Moltres Ora questo Charizard E' qui Per liberarlo Forza Andriano Sbrigati A liberare Anche Zaptus Magari Se sprigioniamo Anche il suo potere Riusciremo a farli uscire Sì Ok Corri 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 Perfetto La pokamera Di Pikachu Sarà 100 Potere di Zaptus Dove di Zaptus Sarà questo Pikachu Qui per liberarlo Guarda Andriano Sta funzionando Zaptus E molto Grazie all'aiuto Di Charizard E Pikachu Si stanno liberando Attendo Andriano Sembra che sia per scopo Certamente Aiuto Andriano Stiamo precipitando Lores Non sarà affatto contento Aiuto Oh Ci siamo Sembra che sia Noggiato per terra Guarda coglierlo Sì Magari E' una cacca di cane Ma Lascia fare Allora Io Mo Vorrei Tanto Tanto Non poter Incontrare Pokémon Selvatici Ma a quanto pare Mi sa che Non si può Evitare Quindi Li andiamo Gli vado incontro Gli vado Gli vado incontro Vi ragazzi Grazie a tutti. Grazie Angeli. Oh, bene. Ehi Andrea, sei tu? Non puoi immaginare quanto io sia contenta che tu sia vivo. Sono troppo spaventata qui sopra che c'è un Pokémon... Ah, spaventata, attenzione. Sono troppo spaventata qui sopra che c'è un Pokémon troppo strano e ha paura di andare da sola. Viene anche tu Andrea. E la che paghiamo strano è? Prendete il tesoro e mettetelo lì. Lì? Ma tu sai parlare. Ci penseremo dopo. Forza Andrea, per posizionare la sfera sopra quel tempio. Grazie. Non sono Ash, ma... Va bene, è lo stesso, no? E cost... E costusi Andrea. Ti manca un tesoro, però? Sì, in effetti ci sono... Ce ne possono andare tre di sfere, ma... Questi versi! Sono tre titani e sono infuriati! Adesso basta, smettetela! Ma sono infuriati, ma io volevo solo aiutarli. Ehi, ma cosa sta succedendo? Oh, padron Lugia. Ma se continuano così distruggeranno tutto, dobbiamo fare qualcosa. C'è un'unica speranza. Solo la prescelta può rinire tre tesori per aiutare grande custode delle acque. Ma la leggenda dice che il suo canto fallirà. Ed in campo sarà un forte a scendere. Ma dove lo troviamo in campo questo forte prescelto se non sappiamo neanche dove cercarlo? Ehm, sarei io... No, sapete. So che sembra difficile ed è tutta colpa mia. Io non ti dovrei dovuto trascinare in questa avventura. E se continua così Lugia non riuscirà mai a sconfiggere tre titani. Aspetta. Il canto di Lugia è simile alla canzone della leggenda. Devo sonare la mia ocarina. Del tempo. Lugia è simile alla canzone della leggenda. Dio mi ha restituito le forze. Oddio, parla. Ma da solo non può restituire l'armonia tra i scatenati titani. Che cosa vuoi dire? Quando i tesori del fuoco e il ghiaccio del fulmine saranno allineati, il mio canto si armonizzerà con i loro poteri e dominerà le bestie sopra e sotto il mare. Ma questo potrà accadere solo con l'aiuto della prescelta creatura. Solo tra le mani del vero prescelto la sfera del ghiaccio brillerà come le altre attivando il suo potere. Quindi Andrea deve andare laggiù a prendere la sfera? Sua soltanto la scelta. Deve andare dove lo guida il cuore. Andrea puoi farcela, io ne sono sicura. Io entratterrò tra i titani mentre voi recuperate la sfera del ghiaccio. Andrea, sono sicura che tu ce la possa fare. Sembra che anche i Pokémon della zona ne siano sicuri. Guarda laggiù. Si sono radunati tutti per sopportarti. Forza Andrea, vai a prendere la sfera del ghiaccio e mettiamo fine a tutto questo. Io ho visto il secondo film dei Pokémon troppe poche volte per ricordarmi. Però il fatto che tutti quanti siano qui mi dà fiducia. Grazie ragazzi, grazie. Oh mio Dio, la paura. Allora, prima di entrare, una leggera premessa. Ho letto che glitcha. Tra i commenti uno ha scritto Ragazzi, fixate la grotta del ghiaccio perché glitcha come non mai. Quindi salvo. Salvo ad ogni stanza, salvo. E naturalmente ci abbiamo anche il repellent. Ah, sono uscito. Eccolo. Giovane eroe, vedo che sei riuscito a trovare la sfera del ghiaccio. Non abbiamo tempo adesso, dobbiamo fermare tre titani immediatamente prima che quell'umano provi a controllarli. Salta su. Yeeey. Tenuti forte, giovane umano. Yeeey. All'avventura. Ehi, tu dove credi di andare? Non ti permetterò mai di posizionare la sfera del ghiaccio. Ormai tre titani appartengo nella mia collezione e nessuno me li porterà via. Soprattutto uno stupido e moccioso come te. Hai distrutto la mia bellissima nave ed io sono salvo per miracolo. Giuro che adesso te la farò bagare che ora... Giovane umano, affido la mia potenza a te. Sconfiggi con l'uomo e andiamo a posizionare la sfera del ghiaccio al suo posto. Lorenz, terzo, di Arabia. In effetti... Beh, sì, Lorenz è di Arabia. Va bene, ok, lasciamo perdere. Go Trishout! Mi chiedo quanto possa... A parte che comunque sia... Io ho forza antica con Trishout, no? Quindi posso fare un 4 per di danno. Wow! Non è molto forte il Trishout da quello che vedo. Oh, dai, 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 un crit, un crit, niente crit. Sarebbe un Critical. Tifone. Non è molto efficace ma fa molti danni. Se mi fallisci forza antica ti meno, bravo. No, non li venirei mai, dai. Si fa tanto per dire. Gli venirei come se non ci fosse un domani. Ok. Infatti non è tanto forte. Zap, adesso è certo che cambia Pokémon, adesso è scemo. Allora, mando... C'abbiamo l'Uki a 70, ma porca di quella porca. Come? Ho premuto C per sbaglio, ma da... Ma... Ma... Ma no! La X ho premuto. Merda. Vabbè, facciamo... Manda K... Eeeh... PP left, la PP, sì. Onda vuoto che fa? Onda calza Zapdos... Ha senso, ha senso. Ha molto senso. E' finita. Finalmente è finita. Oh... Coalizionista Lorenz Erzo è stato sconfitto. Ma come è potuto succedere? Andrà gott 6.000 for winning. Wow. Non è finita qui, soppilo. Forza, giovane umano. Andiamo a posizionare la sfera del ghiaccio. E andiamo a posizionare la sfera. Siamo arrivati. Mi sono accorto. Forza, giovane umano. Ho capito. Oh. Vuole essere la sfera? No, guarda. Ma la tengo io per ricordo. Manco c'è la sfera. Vabbè. Guarda. Si sta trasformando. Ma cosa sta succedendo? Che succede? Cosa? Andre è fantastico. Ce l'abbiamo fatta. La bestia marina è stata domata. Il destino del mondo non poteva finire in mani migliori. Andre è così che ti chiami, vero? Sei stato molto coraggioso e sei riuscito a conquistare la mia fiducia. Adesso vorrei sfidarti, giovane allenatore, per testare un'ultima volta le tue capacità. Prendi questi, Andre. Ti serviranno. Obtained Ultraballs. Salvare il gioco? No. Salvare... Sì, ancora. Andre ha salvato il gioco. Spero che i miei Pokémon siano carichi, perché sennò... Me lo segna come è catturato. Vabbè, lo prendo. Andrea nel panico perde, ma cosa? Wow, Andrea. È stata una notte formidabile, tu sei il mio eroe. Bene. Finisce così, quindi. Purtroppo anche questa piccola demo è giunta al termine. Speriamo che sia stato il vostro gradimento e che sia riuscito a farvi tornare per un attimo bambini. Penso di essere ancora un bambino, comunque sia. Oddio. Oh mio Dio, che colpo. Quando tutti emozionati prendiamo il nostro VHS, lo inseriamo nel lettore cassette per guardare questo fantastico film. Vi ringraziamo per aver giocato la nostra demo. Non avrete mica pensato che vi avremmo concluso la demo qui subito dopo aver catturato l'Ughi. Catturato, sì. Come nella precedente demo avrete a disposizione una zona con delle zolle d'erba dove potete rincontrare tutti i Pokémon principali. Buon divertimento. Ah, quindi insomma, come nella prima demo abbiamo una zona d'erba a disposizione dove potete trovare tutti quanti i Pokémon iniziali. Gli starter, insomma. E con quale musica bella. Ah, magari intendevano i Pokémon che posso trovare in questa demo. Ah, ecco. Comunque sia una demo molto carina. Molto molto carina come demo. Mi è piaciuta. Sì, un po' strutturata male in certi punti, ma si va oltre quello che è questi piccoli bug. Si va a vedere il contenuto. Il contenuto della demo è molto molto buono. Non è facile fare un gioco Pokémon su un film, su quello che è stato un film. Quindi è stata una cosa molto molto carina. Magari se parlavo con tutti i personaggi era anche meglio tutti gli NPG. C'è un aspetto, credo che un gioco Pokémon, se non sbaglio proprio Ash Gray, se non sbaglio, che sarebbe l'avventura di Ash praticamente, papale papale. Riprende appunto sia il primo film, sia anche questo film. Quindi ci sono due film, La Forza di Uno e Mewtwo colpisce ancora. E hanno detto anche che questa demo, quella di Weedle, questa demo sarà nel gioco principale. Quindi più o meno penso che dopo la quinta, sesta palestra. Perché se qui stiamo a livello 50, bene o male anche i Pokémon delle palestre, insomma, devono avere... I Pokémon in genere arrivano al 50-60 verso la sesta-settima palestra. Quindi insomma, non so quando la implementeranno, però nel gioco finale la implementeranno. Quindi oggi spero sia piaciuto anche a voi. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Ci vediamo nel prossimo. Bye bye!